Perché la mestruazione può peggiorare i sintomi vescicali, in particolare quando una donna che ha già avuto diverse cistiti ha uno stato di infiammazione cronica, per cui si parla di sindrome della vescica dolorosa? La spiegazione è molto precisa. Quando la donna ha la mestruazione ha avuto una caduta del livello di estrogeni e di progesterone, gli ormoni femminili che vengono prodotti ad ogni mese dal follicolo che sta maturando per far arrivare poi a maturazione l'ovocita, se c'è stata la fecondazione parte la gravidanza, se non c'è stata la fecondazione, il livello di estrogeni e progesterone cade e abbiamo la mestruazione. Perché compare la mestruazione? Perché a livello dello strato basale dell'endometrio, che è la mucosa che riveste l'utero nella cavità interna, i mastociti, che sono i nostri soldati, liberano sostanze che fanno staccare a stampo questo strato interno e danno luogo alla mestruazione. Che cosa fa lavorare questi soldati, questi mastociti? La caduta degli estrogeni e del progesterone. Ma qual è il punto? La liberazione di queste sostanze infiammatorie che causa il distacco dell'endometrio e la mestruazione non avviene solamente a livello dell'utero, avviene in tutto il nostro corpo. Ecco che allora, se io ho un'infiammazione nella vescica, nel momento in cui si abbassano i livelli di estrogeni e di progesterone, avrò una liberazione di sostanze infiammatorie anche a livello della parete vescicale e la parete della vescica brucia letteralmente di più. Cioè la donna dice, i miei sintomi vescicali, l'urgenza di urinare, la minzione dolorosa, quel senso di peso, quel senso di bruciore persistente, sono peggiori quando ho le mestruazioni. E questo è vero poi anche per altri sintomi. Peggiorano per esempio i sintomi dell'intestino irritabile, ma peggiorano anche i sintomi depressivi, perché queste molecole infiammatorie, quando l'infiammazione è importante, viaggiano nel sangue e inondano il cervello, creando neuroinfiammazione. E la neuroinfiammazione è la base biologica della depressione, che spesso si associa comprensibilmente alle donne che hanno cistiti ricorrenti o addirittura una sindrome della vescica dolorosa.